Sigfrido, buonasera, ciao professore, insegna nuova, chiedi Roberto mettiamoci al centro della plaza, cioè insegna nuova, allora intanto sono i 25 anni di Report, guardate la nuova, ci presenti Sigfrido la nuova grafica? Sì, abbiamo dato una rinfrescata per i nostri 25 anni, sai quando è nata Report, io non c'ero, perché è camminato sulle idee di Milena Gabbanelli, sui vecchi autori storici, ma nessuno pensava potesse arrivare a 25 anni, un quarto di secolo, una trasmissione così ruvida, poi fatta con pochi mezzi, invece siamo ancora qua, facciamo gli scongiuri, pensiamo ancora di continuare, perché sostanzialmente il Report è rimasto fedele a se stessa, il romanzo dei fatti, questo è il segreto del suo successo. Ed è bellissimo questa nuova grafica, un nuovo look, anche tuo, perché Ranucci con i pantaloni chiari, proprio è una nuova vita, una nuova storia, senti parlavamo di scuola, di purezza, tu hai anche insegnato Sigfrido, giusto? Eh sì, ho insegnato. Hai sentito queste storie che raccontavamo? Ti è mai successo di avere voglia di essere provocato da uno studente o di essere stato tu a provocare? Io ho frequentato sia istituti statali che quelli parificati e quelli serali, insomma, che erano ben più complessi da gestire e devo dirti che qualche volta la tentazione di tirare un ceffone... Cioè, il problema vero è che poi alla fine un professore deve educare un ragazzo ad essere un cittadino, soprattutto. Se tu reagisci in quella maniera non dai un esempio giusto, ecco. E questa è la cosa più importante da sottolineare. Devi imparare a controllare le reazioni, devi insegnare anche ai ragazzi a come farlo. Mentre sul telefonino io poi, guarda, non sono molto d'accordo sul fatto di ritirarli, perché io sono convinto che sia difficilissimo rinunciare anche mentalmente ad uno strumento che purtroppo ha il suo, passami il termine, porco fascino, cioè un grande appeal. Io sarei dell'idea di governarlo quello strumento. Noi abbiamo consentito negli anni che quel telefonino, quello smartphone, diventasse per i nostri ragazzi un luogo dove conservare la loro memoria. Penso a noi, noi avevamo le nostre fotografie, le conservavamo nei cassetti, si rovinano anche quelle. Ma questi ragazzi hanno consegnato la loro memoria, i loro sentimenti, i loro stati d'animo ad un telefonino, alla memoria di un telefonino. Se questo si perde, hanno necessariamente, immancabilmente, un senso di smarrimento. Noi dobbiamo insegnare a governare quello strumento in qualsiasi condizione. E questo credo che sia la scommessa più grande, la scommessa più importante. Hai ragione, però dissento completamente dal fatto che si debba tenere in aula un telefonino. Dissento, scusami tanto. Per tre ore si può anche stappare a meno di un telefonino. C'è gente che riesce a non bere per tre ore o a non fumare, c'è gente che può anche... Potremmo tenerne uno sulla cattedra perché se uno ha bisogno di approfondire certi temi... Ma chi li nega? Possono... Anzi, hai detto perfettamente bene la loro coscienza, la loro memoria, i loro ricordi, il loro modo di essere. Va benissimo, non nego nulla. Ma la scuola non vuole negare questo. Vuole soltanto avere un'attenzione in quelle poche ore. Poi ci sono gli intervalli. Usano nell'intervallo. Nell'isolo usa oltre un'ora e un'altra. Ma per favore, un po' di dignità alla scuola. Un po' di dignità. Che ne ha poca. Siegfried, a proposito di dignità... Io sono d'accordo col professore. Il problema è che la dignità deve averla l'insegnante, deve averla la scuola e deve essere più forte da pilla, nella pilla di un telefonino. Questa è la scommessa più grande. Abbiamo dei mezzi che sono ovviamente molto più mediocre rispetto al fascino che è la potenza che può avere un telefonino. Però la scommessa secondo me è quella. Usare anche un telefonino a fini pedagogici. Perché no? Perché no, quello va bene. Ci racconti come funziona in Finlandia? Perché so che voi lunedì racconterete questa isola felice. Come funziona? Noi guarda, siamo andati in Finlandia perché da anni viene considerata la migliore scuola al mondo per il fatto dell'appartenenza, della mancanza di abbandono scolastico. Alcuni po' visti dell'informazione, della formazione, del nozionismo, sarcono un po' il naso quando sentono l'insegnamento in Finlandia. Però, però, c'è un però. Allora, a me piacerebbe vedere la scuola italiana avere delle idee come le ha avute la Finlandia, dell'organizzazione come le ha avute la Finlandia da questo punto di vista. Intanto loro pensano al ragazzo come un cittadino. Non ci sono delle interrogazioni, non ci sono i voti, c'è il trasferimento delle informazioni, c'è l'educazione al ragazzo finalizzata, l'inserimento completo nella società. Fanno una grande programmazione. Loro sanno che mancheranno dieci cuochi, venti fabbri, venti ricercatori all'università. Pianificano da qui a dieci anni quello che serve da far produrre alla scuola. Hanno un grande rispetto del ragazzo, un grande rispetto dell'insegnamento, degli insegnanti. Hanno degli stipendi che sfiorano i 4.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro. Oggi qui in Italia li prendono i magistrati, i giornalisti, insomma. Quindi hanno un grande rispetto per il ruolo dell'insegnante. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è il fatto che loro identificano le aree, le sacche più deboli del paese di volta in volta e finanziano quelle aree più di altre perché il paese cresca in maniera uniforme. Non è sempre stata così la Finlandia. Cent'anni fa era prevalentemente agricola. Loro a un certo punto hanno investito sulla formazione. Da lì, per esempio, è nata Nokia, la multinazionale finlandese. E vedi, si chiude, hai chiuso il cerchio. Ti fermo perché... Oggi sono polemico. Oggi sono polemico. Sì, però in Finlandia c'è un abitante ogni 100 chilometri. Scherziamo. In Italia siamo tutti ammassati. Però non può passare al concetto che siccome sono pochi... Eh, va bene. Andiamo il comune. Perché allora San Marino dovrebbe essere la scuola più... È più semplice. ...più premiata del mondo. Se trasferissimo quel modello nelle nostre piccole realtà, magari ne avremmo tante che funzionano. È vero. E lunedì sera impareremo. Oppure ci sono degli spunti interessanti da seguire. E lo vedremo lunedì sera da te. Intanto invece tu guardati quella che è la tua canzone del cuore. Stella di Antonello Venditti. Stella che cammini Nello spazio senza fine Fermati un istante e solo un attimo E ascolta i nostri cuori Cammuti in questo mondo Siamo incanti ad ospettare Donaci la pace ai nostri simili Pane fresco da mangiare Proteggi i nostri sogni veri Nella vita quotidiana E salvali dall'odio e dal dolore Allora, mi piace molto questa rubrica, Roberto, perché le scelte dei nostri orpiti non sono mai banali. Sono bizzarre, sì. No, bizzarre, però sono sempre... Non sono banali. Cioè, ha preso una canzone bellissima di Venditti, ma non... Bella, poco conosciuta. ...più famosa. Conosciuta, ecco, ci racconti un po'. È poco conosciuta. Come sempre un minuto, eh. Via la Cressidra. Allora, canzone dell'84, dell'album Cuore. Io con Antonello... Siamo amici da sempre. Cioè, lui è molto più giovane di me. Ci siamo conosciuti in un campeggio in Sicilia. Lui cantava questa meravigliosa Sora Rosa. Me ne vado via. Siamo due osse di prosciutti. Antonello è istintivo. Non è un cantante che si mette a sparare metafora, eccetera. È tutto cuore, infatti. È tutto così. Questa canzone è una canzone... È una specie di preghiera. È un canto di speranza. Infatti assomiglia, in alcune frasi, mi le sono sognate, al paternoster. È un paternoster laico. Perché dice... Donoci la pace ai nostri simili. Pane fresco da mangiare. Proteggi i nostri sogni veri dalla vita quotidiana. C'è molto del paternoster. D'altronde Antonello, tutti pensano che sia un ateo. Non è vero. Lui di se stesso dice... Io sono Antonello. Come Antonello? Sono laico. Come venditti sono cristiano. Ci credo. D'altronde quando scrive... La vedola maestrata del Colosseo. La santità del Colone. Intende quello. Mi sembra chiarissimo. Perché è così importante questa canzone per te, Sigfrido? Come diceva il professore, è una preghiera laica. Poi io mi definisco, usando le parole di Fariano, un sognatore con i piedi saldamente posati su una nuvola. E il fatto di essere sognatore, visionario, è una dimensione che mi ha accompagnato, soprattutto in quegli anni, appena diplomato, dove cercavo anche la mia strada. E il fatto di immaginare che ci fosse qualcuno che proteggesse i miei sogni dagli attacchi del quotidiano, dal potere e dall'odio, ecco, in qualche modo mi rassicurava. E per me è stata una canzone importante perché mi ha accompagnato diversi anni. Poi ti racconto una netto, adesso non vi mettete a ridere. Io strimpellavo con la chitarra, non ero bravo, però mi fissavo perché ero perfezionista, cercavo da buona vergine di cantare, di suonare questa canzone. C'era una vicina di ombrellone che a un certo punto ha detto a mia madre, ci senta, ci scusi signore, questo ragazzo è bravissimo, per carità è dolcissimo, però ci fa due scatole così con senso. Vedi come si mortifica una carriera, un possibile grande cantante, abbiamo avuto invece un grande conduttore di report. A proposito, comunque parlavamo di chiese, insomma, di mondo del cupolone, guardiamo questa clip che ci ha mandato Sigfrido, che vedremo anche lunedì, ma ce la mostri in anteprima, su alcune chiese di Napoli, che, diciamo, appartengono a tutti, tranne che alla curia, direi, cioè servono a tutto, tranne che a dir messa. Vediamo. Nelle chiese di Napoli succede di tutto e addirittura abbiamo un record mondiale. Un caso di abuso edilizio sulla facciata di una chiesa, quella di Sant'Arcangelo a Baiano, sede di un'arci confraternita, dove gli appartamenti confinanti si sono allegramente allargati. E come è possibile che si è fatto l'appartamento dentro la chiesa? Si vede che facendo qualche lavoretto interno... Si sono allargati. Informazione, ma questa prima era una chiesa? Quindi oggi ci state qua in una falegnameria, diciamo. Un deposito, questo è un deposito. Nessuna traccia della chiesa che fu, ma basta alzare gli occhi al cielo ed ecco che emerge il tesoro che abbiamo perso. Devo dirsi che nella vita l'avevo vista tanto e questa mi mancava. Non lo so tu, ma se sei rimasto anche tu sorpreso la prima volta che l'hai visto. Penso che a casa staranno sbattendo gli occhi. No, sono rimasto sorpreso, ma il problema è... Intanto ci hanno assicurato il Comune di Napoli... Scusa, salutiamo che ci hanno raggiunto Michela Murgia e Andrea Vianello. Prego, dicevi... Dicevo che quel balcone che è stato messo sulla faccia della chiesa ci ha rassicurato che il Comune di Napoli verrà abbattuto. Ma con calma, perché sono 30.000 gli edifici abusivi, hanno circa una media di 40 demolizioni all'anno e ce ne sono 1.314 prima di buttare giù quel balcone. Quindi gli abusivi di Sant'Arcangelo a Baiano e la chiesa dormiranno sogni tranquilli. Il problema è che a Napoli ci sono tantissime chiese, addirittura forse più di mille. Nel solo centro storico ce ne sono 203. È impossibile gestirle tutte, costa. Quindi la chiesa che cosa ha fatto alla curvia? Le ha date in comodato, gratuito, però con l'impegno che venisse mantenuto il decoro. Ma siccome poi nessuno più ha controllato, che cosa è successo in queste chiese? Che hanno consumato dei concerti, le feste di Halloween, addirittura dei convegni dove si teorizzava la pratica della masturbazione femminile. Ti informo, ci sta guardando il Cardinal Zuppi, che sarà nostro ospite fra un'ora. Quindi fermiamoci qua, perché il Presidente della Cegli stiamo rovinando la cena. Benvenuti ancora a Michela e ad Andrea. Allora, abbiamo pochi minuti, sti qui, e ancora comincerei con te il primo giro della prima parola della nostra serata, che non può che essere oggi la parola pace. È stato il giorno delle due manifestazioni, quella di Roma con molte associazioni e anche con i 5 Stelle e il PD. L'ET è stato fischiato, sono successo varie cose. A Milano c'era invece l'altro pezzo del centro, diciamo del centro-sinistra, cioè Calende e Renzi con la Moratti, che hanno invece fatto una marcia diversa. Ti vorrei chiedere, tu oggi non avessi dovuto essere lì a fare le prove di report. Avresti andato a Milano, a quella di Roma o in nessuna delle due? Ma guarda, intanto delle marce di pace dove ci sono persone che litigano tra loro ogni giorno, insomma a me fanno un po' sorridere. Quello che posso sottolineare Massimo è che quello che io sento veramente è la mancanza, è la figura di un uomo di pace, di un uomo di pace nel mondo, un uomo che porti veramente un segnale, una parola positiva in questo conflitto, ma che non è nient'altro che l'esempio di una conflittualità mondiale. C'è il Papa e purtroppo abbiamo visto che anche là sono entrate delle dinamiche politiche. Ecco, io quello di cui sento la mancanza è veramente più di un uomo di pace che delle marce di pace. Io sarei andata a Roma sicuramente. Anche a me manca un uomo di pace, il nome è un cognome però. Mi manca Gino Strada, uno che ha detto che la guerra in qualunque forma causa distruzione, morte, inaccettabili. Quindi non importa cercare le ragioni, chi ha ragione, chi ha torto, chi è l'aggredito, chi è l'aggressore. Quando ti trovi davanti a quella roba lì che è la conclusione di un processo su cui tu non puoi più intervenire, l'unica cosa che devi chiedere è il cessate il fuoco, cessate il conflitto, pensate agli innocenti. Ecco, la manifestazione di Roma chiedeva questo, quella di Milano un po' meno, diciamo. Andrea? Un giornalista può permetterti di raccontarla senza andarci. Certo. Nessuna delle due. Diciamo che è una parola talmente bella, pace, che il fatto che adesso invece è persino divisiva è un segno abbastanza preoccupante. Io penso che la pace deve essere anche una pace giusta. E come quello che è successo all'Ucraina con l'invasione da parte dei russi non può essere una pace se è solo un'Ucraina. Pampa, lei c'è stata più di me, molto più di me, che racconta quanto è importante anche sentire chi c'è stato perché appunto, ripeto, la pace la vorremmo tutti ma non può essere... Poi bisogna tirarla giù sulla terra e però bisogna che questo Donbass in qualche maniera si discuta di questo perché pensare che Putin si ritiri da tutto e faccia la pace è impossibile. Pensare che gli ucraini rinunciano a tutto è impossibile e bisogna trovare qualcuno che gli metta un tavolo e a trovare un accordo. Magari qualcuno che non gli vende le armi, però. Noi compresi. Dopo lo chiederemo al Cardinal Zuppi che penso che abbia un'idea riguardo. E anche qualcuno che fa poi, insomma, diciamo, vincere comunque una parte che vuole prendersi un pezzo di un altro paese. Salutiamo Sigfrido Ranucci che vedremo lunedì prossimo. 25 anni di report. Guardate che bella la nuova grafica. Ciao Sigfrido, buona domenica. Ciao, un saluto al mio direttore. Ciao, io ho fatto il direttore suo. Pensa che fatica. Ha detto un'altra parola ma poi ci vorrà il labiale. Ma anche che bella cosa. Sì, sì. Grande onore. Ciao Sigfrido.